Benvenuti gamers, sono paladino, che non si chiama Request Golden Sun, la carica del 102 Giochi d'infanzia, Flash Games, Kiribin Topp e l'attacco, Legend of Zelda Phantom Hourglass, Professor Nathan e lo scrigno di Pandora No, 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 no NON, NON, NON! Io non ho capito perchè ci sono queste scatole Cosa c'entra con la segheria? Il tubero What the f*** Ti odio Come odio tutti i... No, no, no No Sì, cosa era? Sì, sì, lo so Stavo facendo, giuro lo stavo facendo Sì, vabbè, vabbè Sì, ok, ho capito, mamma mia Manca una Perchè, mondo? Ho 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 I nostri personaggi potranno tirare dalle palle di nepe lentamente E insomma, guarda, la fleccia va giù E quindi, falliamo E basta girare il cartello Così via Palate Porca paletta Oh Io porco In futuro diventerai un cuscinetto a sfera La parola chiave è Cuscinetto a sfera La prima cosa che dobbiamo fare È Di care a caso Ma perché? No, no Ce l'avevo fatta Ce l'avevo fatta Lo sanno tutti che le giraffe Hanno una camminata buffa Ma genovezza La mia giraffa No, 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 no Adoro sto gioco Ma che stiamo scherzando? Cos'è sta roba? Benvenuti gamers, io sono Kondo, il conduttore che non si chiama Tore Tu sei stato sconfitto, o devo dire sconfitta Ma la prossima volta vincerò, sta ne certo No, non farlo, no, no E così, è finita Il Paladino ha terminato il suo corso Pokequiz terminato al decimo video Pokemon Reality interrotto al quinto episodio Pokemon Rosso Fail interrotto all'ottavo video Nintendo Characters con due video ufficiali e uno non editato Layton lo scrigno di Pandora, concluso con 29 parti e 5 extra Zelda Phantom Hourglass interrotto con 14 parti e una corrotta Kirby Top per l'attacco, conclusa con 8 parti e 2 extra Flash Games con solo 3 video Giochi di infanzia con 8 video, di cui uno bloccato e un altro con giochi non funzionanti La carica di 102, conclusa con 20 parti e 2 extra Golden Sun interrotta con solo 5 parti E poi video a caso su Pokemon, Quick Play, Corriere di Eevee, Pokemon Online, speculazioni Su Smash Bros, Town of Salem, annuncio di un let's take impedito di farlo fare a qualcun altro Specialisti festivi e video scemi per e con amici Sono iscritto su questa piattaforma dal 3 gennaio 2011 E il mio primissimo video risale a due mesi dopo, il 13 marzo 2011 Ho tentato di dare due reset al canale e in tante le volte cambiando l'avatar Ma ormai è tempo di finirla Il paladino appende i video al chiodo Addio, paladino Mi mancherai Ci vedremo in un prossimo video Ciao da Pala, il paladino, che non si chiama Dino